Primi interrogatori ieri in Procura a Palermo per i politici coinvolti nelle operazioni malagestio. Alle domande dei magistrati non hanno risposto i deputati regionali Lino Leanza e Nino Dina. Ricordiamo che nell'operazione condotta dalle Fiamme Gialle e coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo sono state eseguite 17 ordinanze di arresto, tra le quali anche quelle rivolte agli ex assessori regionali Luigi Gentile e Gian Maria Sparma. Dalle indagini che si sviluppano in due filoni, la prima malagestio e la seconda grandi eventi, emergerebbe come all'ombre dei palazzi della regione si sarebbe formata una organizzazione che si sarebbe appropriata anche dei fondi comunitari destinati al finanziamento di progetti per la formazione professionale. Le Fiamme Gialle, nella giornata di ieri, hanno anche sequestrato il capitale sociale ed i beni di cinque società e denaro riconducibile agli indagati per un valore di oltre 28 milioni di euro. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, illecito finanziamento ai partiti, frode fiscale e truffa. Secondo i magistrati palermitani, il protagonista indiscusso del filone grandi eventi è il manager Fausto Giacchetto. Dai particolari che emergono dalle indagini, l'imprenditore e organizzatore di manifestazioni avrebbe messo a disposizione di politici regionali e nazionali appartamenti, escort ed abbonamenti allo stadio Renzo Barbera in cambio di concessioni per l'organizzazione di eventi, tra i quali ci sarebbe anche quello relativo alla visita di Papa Benedetto XVI a Palermo. Dagli incarti della procura emergerebbe anche la trascrizione della confessione di due collaboratori di Giacchetto che avrebbero parlato di un bonifico di 3 mila euro per l'ex subret Sara Tommasi. Per quanto riguarda l'ingresso gratis allo stadio della favorita, non sarebbe stato un privilegio solo dei politici. L'ex assessore regionale agrigentino Luigi Gentile infatti avrebbe condiviso il privilegio con altre 103 persone. Intanto il gruppo all'Ars del Movimento 5 Stelle chiede l'autosospensione dei deputati regionali coinvolti. Il governatore Crocetta ha annunciato la sospensione dei dirigenti e funzionari implicati nell'inchiesta.